Sì Sì Mi piace anche che rida Mi piace anche che rida Sì Vuoi riuscire a riuscire Quindi ora, inizia a riuscire Riuscire Sì, stai lavorando sul video Sto facendo la editazione Sto facendo il video insieme Sì, per il blog B***i, non ricordi? Non ricordi? Certo Ramona, tu ti stai davendo una bella Sto facendo un grande lavoro Upp, upp Un' resa Grazie a tutti. Grazie a tutti.